Good morning Milano, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, buongiorno anche a giugno che finalmente ci raggiunge, eccoci qua, eh sì, primo lunedì di giugno, lunedì 3 giugno, sono le 7-10 minuti sempre qui su Crystal Radio Milano, buongiorno ancora a tutte e a tutti, good morning Milano fino alle 9 qui in vostra compagnia, dei vostri whatsapp, delle vostre foto che ci mandate, i vostri audio, insomma quello che volete al 331-7853-555. Tanta musica che ascolteremo, tante notizie che andremo a leggere dai vari giornali online di informazione locale, così che appunto Milano, oltre che sentirla qui su Crystal Radio, potete anche vivere, capire e discutere su quello che succede in città, davvero tante le notizie che andremo e vi daremo quest'oggi, nel primo lunedì come vi dicevo di giugno, all'inizio appunto di un nuovo mese in vostra e nostra compagnia, ultimo mese di programmazione di Good morning Milano. Adesso giuro che non faccio il countdown tutti i giorni, ma appunto il 28 giugno chiudiamo la trasmissione per le vacanze estive, andiamo a fare l'oratorio estivo io e l'Elisa, poi ci rivediamo a settembre. No, è vero, però insomma, come se adesso siamo a scuola, fine giugno, in realtà anzi le scuole chiudono tipo settimana questa, se ho capito bene, già venerdì sono già belli che tutti a casa, tranne gli asili che vanno avanti fino a fine giugno. Quindi noi come un asilo appunto andiamo avanti fino a fine giugno e poi dopo ci si rivede a settembre, quindi mi raccomando, comunque voi rimanete sempre su Crystal Radio perché insomma Crystal Radio continua sempre con la grande musica, la grande programmazione, questo weekend l'avete ascoltato, grandi programmi nel weekend sempre, nel weekend ci si diverte sempre tantissimo su Crystal Radio. Red Hot Chili Peppers, Hometown, Gypsy, 7 e 15 minuti, sempre Crystal Radio, Good Morning Milano, andiamo e cominciamo a leggere un po' quello che è successo. Arriviamo qualche giorno dopo perché abbiamo fatto decantare un po' la situazione, sto parlando dei concerti che hanno aperto la stagione estiva a Milano, in teoria oggi avrei voluto parlarvi dei concerti di Bruce Springsteen, ma sappiamo benissimo che appunto il concerto che doveva esserci sabato sera e questa sera invece non ci saranno perché il boss appunto non sta bene e quindi verranno poi rimandati chissà quando. Ma i concerti ci sono stati, ci sono stati quello di Metallica ad esempio alla Maura e com'è andata? Ci si aspettava appunto anche un po' di capire come sarebbe andata, non tanto il concerto che è stato bellissimo, anzi hanno anche suonato una famosa canzone italiana dei Prozac più acido, questa cosa l'ha portato tutti quanti in visibilio, ma tutti ci chiedevano bene ma come sarà il piano messo in campo dal comune per contrastare il caos che avviene in quella zona. Allora sembrerebbe così, dicono alcuni giornali, ma anche la Presidente del Municipio 8 dice così, quindi insomma lei molto critica di solito su questo tema, se dice che sembra un po' meglio allora va bene, ancora tanto da fare sicuramente ma sembra un po' meglio. E andiamo a leggere da prima Milano, appunto testata giornalistica di informazione locale che dice i Metallica conquistano Milano, ma ha funzionato il piano anti caos concerti del comune? Sala dice è stato un evento ordinato, noi non abbiamo altre aree dove farli oppure Milano deve rinunciare a concerti. Ecco allora, Sindaco però basta questa cosa che ogni volta che diciamo una cosa la risposta è è o così oppure non si fa, cioè non va bene, cerchiamo un'area. Poi scusate, avevamo l'area Expo dove c'era un'arena, io ci ho visto pure Bocelli cantare, quindi per la chiusura di Expo. C'era quest'area, ci hanno fatto dei concerti qualche anno perché per qualche anno è stata usata, adesso non si sa nulla di quest'area, ma soprattutto ci avete fatto un ospedale praticamente attaccato e quindi ovviamente non credo che voi vi mettete lì a fare 80.000 persone che cantano in Metallica o che cantano appunto, ma anche se fosse Masini o Taylor Swift, cioè nel senso 80.000 persone che cantano a squarciagola con tutto l'impianto e tutto, di fianco all'ospedale effettivamente non va bene. Ma la domanda è, ma non c'era altro modo di poter gestire questa cosa? Ma soprattutto non è possibile che a Milano non possiamo costruire un'area concerti fatta, finita, vicino a qualche uscita da tangenziale, fatta pagare da chi farà i concerti a Milano? Perché poi Sala continua e dice, perché vedete, non sempre, cioè, dice, ieri, queste interviste le hanno fatte giovedì scorso, però diceva appunto, è stato un primo test, ripeto, le proteste ci saranno sempre, però noi non abbiamo altre aree, o Milano rinunce a concerti o non abbiamo altre aree dove farli. Ma perché questa minaccia sempre comunque? Non sempre ci sono proteste, ha continuato poi il sindaco dicendo, ma è anche vero che per il concerto di Metallica abbiamo messo in campo uno schieramento di polizia locale significativo e il concerto, che è un evento importante, si è sviluppato in ordine sufficiente dal mio punto di vista. Eh, dal tuo punto di vista, sufficiente, cioè, comunque mi sembra che, insomma, non è che proprio diciamo, oh, da tutto bene, figata, no, perché poi, cosa succede? Auto in sosta selvaggia fuori dalla zona rossa, zona rossa in cui non potevano entrare neanche i pulmona TM, e quindi la gente che doveva andare a casa, e c'è nessuno di gente che abita all'intorno, doveva farsi i pezzi a piedi, che ci sta, non è questo problema, però, nel senso, cioè, io abito lì, nel senso, adesso non dovrei avere dei disagi, perché mi devo, cioè, è anche bello, è anche bello avere i concerti, gli 70-80 mila, quello che mi fa un po' ridere è che ancora dice, finché non sapremo che fine farà San Siro la Maura, sarà sempre una situazione un po' precaria, e vabbè, speriamo che il traffico non lo sia invece precario. Is This Love, White Snake, qui su Cristal Radio 1988, lunedì 3 giugno 2024, sono le 7 e 25 minuti, sempre qui per raccontarvi un po' quello che succede a Milano, e per leggere anche i vostri whatsapp. Buongiorno Alberto, che ci manda un whatsapp del buongiorno appunto, un saluto ai cristallini in ascolto, a Fabio e alla redazione, arriva giugno e arriva l'estate, o almeno si spera. Ebbene sì, insomma, la speranza è sempre quella, ma insomma, chi è sperando morire non si può dire. Comunque, rischio temporale forti su Milano, scattata l'allerta meteo già ieri, a partire dalle 14 di ieri fino alla mezzanotte di oggi, c'è un'allerta meteo, cosa succede? Poi è tornato appunto al maltempo, abbiamo visto ieri un cielo di nero che faceva paura, faceva davvero paura, è arrivato in un paio di tranche l'acqua su Milano, nella notte ha piovuto, questa mattina sembra che sia un po' meglio, ma in realtà c'è ancora tutto bagnato, e anzi, pochi minuti fa qualcosa qui, ad esempio nella zona San Siro già veniva giù, non ho chiesto a Elisa, Elisa Galvarini nella mia relazione, mentre arrivavi pioveva? Sì, mi dice che pioveva, ok, quindi pioveva anche mentre stava arrivando, su tutto il tratto urbano della, no, così fate, a Tangenziale Ovest oppure, sì, su tutta la Tangenziale Ovest, quindi da San Donato sicuramente, da Poasco a San Siro c'è acqua, cioè c'è acqua. Quindi, insomma, continua l'allerta meteo, il meteo è questo per la giornata di oggi, quindi possibilità di rovesci, schiarite e poi rovesci e poi schiarite tutto il giorno così, quindi io non so più cosa dirvi, non so più neanche consiglio darvi, ma non sono l'unico, perché non è che i siti di meteorologia danno molto di più, cioè, adesso sto guardando, c'è sole, nuvolo e pioggia, tutto. Ah, e poi questa sera comunque anche i temporali, quindi, insomma, davvero c'è di tutto. Dovrebbero intensificarsi un po' nel pomeriggio, ma questa sera, poi, appunto, dopo il temporale, che dovrebbe arrivare prima dell'ora di cena, diciamo, intorno all'ora di cena, prima dell'ora di cena, comunque dovrebbe poi andare a scemare nella notte, appunto, dopo la mezzanotte in poi dovrebbe tutto andare a mettersi a posto. Anche Alberto ci dice che alle 7 c'era una leggera pioggerellina sulla zona Navigli, se volete voglia di fare parte anche voi del nostro gruppo di meteorologi, siamo qua, 33178535555, ci iscrivete e vediamo un po' come è la situation in questo momento sulla città di Milano. Ripeto, occhio però, perché appunto c'è comunque, è stata dinamata ieri, soprattutto per ieri, perché ieri comunque è arrivata giù veramente un bel po' di acqua, però, insomma, diciamo che dovrebbe tornare tutto, rialzarsi un po' le temperature, ritornare tutto sui standard estivi di giugno, verso appunto la giornata di domani e dopodomani, nonostante comunque, beh, poi siamo in estate, nel senso arriviamo all'estate, non siamo in estate, ci stiamo avvicinando all'estate, e quindi poi comunque i nostri bei temporaloni, verso sera, verso le 5 e mezza, 6, di solito ci sono sempre, il primo decolfi da bambino, cioè il temporale estivo, vero è che questa cosa avveniva a luglio, cioè veniva un po' più avanti, invece adesso si è spostata, e soprattutto sono mesi che continuano a dirci che a fine mese migliorerà il tempo, ma questo a fine mese non si è visto ancora, quindi vediamo che, e speriamo, che appunto vada a migliorare la situazione. Andiamo con un po' di musica ancora, un pezzo storico appunto della musica italiana, sto parlando di Raff, di Raff, ve lo ricordate Raff? Eh beh sì, un pezzo di che anno è? Questa è il 90, pensate, è vero, un ragazzino, ma ve lo ricordo tantissimo, mia cugina era un fan, una fan pazzesca, proprio sfegatata, non so se si può dire i gruppi, ma qualcosa del genere comunque. Soprano di Raff con Ti Pretendo alle 7.28 minuti, qui su Cristiano Radio, sempre a Good Morning Milano. Angelina Mango, come Total è l'aspettativa che avete un po' troppo alto su di me, mi viene da dire, perché è arrivato un whatsapp al 3317853555. Buongiorno Fabio, buongiorno a te Adriana, iniziare lunedì con la pioggia è proprio triste, svoltaci la giornata. Urca, Elisa, parlo con la mia redazione, abbiamo una certa responsabilità in questo momento, non so bene come poter fare a svoltarvi la giornata, se non ricordandovi che appunto stiamo andando verso il weekend delle elezioni, ok? Noi ne abbiamo parlato pochissimo, devo dire la verità, perché insomma siamo in parcondicio, quindi è veramente complicato sempre parlarne, ma sicuramente quello che invece viene da dire è andate a votare. Ovviamente l'annuncio, cioè l'appello che vi faccio da qui fino a domenica, che appunto continuerò, ripetevi, di andare a votare, perché bisogna votare, è un nostro diritto, ma è un dovere soprattutto nel prendersi cura della cosa pubblica, della cosa comune anzi, che tutti quanti ci unisce, ma quando si parla di elezioni, quando si parla di votazioni, mi viene in mente un grande classico della cinematografia italiana, che è Nanni Moretti, ma anche perché insomma, spesso e volentieri, soprattutto da una certa parte politica, si trovano un po' orfani dicendo ma è possibile che qui nessuno dice qualcosa di sinistra? Beh, com'è che faceva Nanni Moretti? Com'è che diceva? Non mi far vedere che tortura, che tortura questa campagna elettorale, speriamo che finisca presto, D'Alema reagisce, risponde di qualcosa, D'Alema di una cosa di sinistra, di una cosa anche non di sinistra, di civiltà, D'Alema di una cosa, di qualcosa, reagisci! Ebbene, quella cosa non sappiamo se l'abbiamo mai detta D'Alema, ma sicuramente potrebbe tutto ripartire dal, invece, l'arcivescovo di Milano Delpini, perché, signori, dove non arriva il capitale di Marx, arriva Delpinosa, non lo so, però nel senso, davvero, Delpini, come sempre, certe stoccate tira, che davvero sembra, che forse, una certa parte potrebbe ripartire da Delpini, leggiamo dal Corriere della Sera Milano, Delpini e il futuro dell'Europa, troppo individualismo, così la civiltà si suicida, per i problemi non basta agitare il crocifisso, no a slogan politica, no a slogan e alla politica della paura, il populismo è la rinuncia a una visione, pericoloso se l'invidualismo sostiene il senso di appartenenza, il populismo è la rinuncia a una visione, così dice appunto l'arcivescovo Delpini, mi sembra pericoloso che l'invidualismo si sostituisca al senso di appartenenza, che il pensiero sia sostituito dagli slogan, che tutto si banalizzi in fattori emotivi o in reazioni ideologiche, insomma, è da temere che la politica della paura sostituisca una politica della responsabilità. Nanni, adesso parlo direttamente con Nanni Moretti, forse il tuo appello era fatto alla persona sbagliata, dovevi farlo all'arcivescovo Delpini, che vedete come, così, insomma, io sono molto contento di avere un'arcivescovo, così devo dire a Milano, quindi chapeau, come diceva qualcun altro invece, al nostro arcivescovo, che insomma, cerca sempre di tenersi sui toni pacati, fuori dalla bagarre politica, fuori dalle discussioni troppo importanti, ma che quando però poi c'è il momento di dire la cosa, la dice giusta, qui bacchetta tutti ragazzi, qui è fantastico, qui con parole paccate, senza urlare, sottovoce, piano piano, come piace a noi, da una manata in faccia a tutti quanti, veramente qui è una roba pazzesca, li asfalta, come dicono quei giovani, li asfalta, si usa ancora, si usa ancora, non lo so, comunque davvero, queste le parole del candidato Delpini, le trovate sul Corriere della Sera Milano, dategli una lettura, perché è molto molto interessante. E questo era Gali con Paprika, alle 7.43 minuti, e rimaniamo comunque, dopo aver letto le parole, dell'arcivesco Delpini, che insomma, invita a una riflessione molto interessante, sul voto che andremo a esprimere, questa fine settimana, non tanto dicendoci chi votare, che insomma, quello giustamente, è alla coscienza, al gradimento, mi viene a dire anche di tutti, e alle idee che ognuno di noi ha, ma soprattutto, dicendo l'importanza, di un certo tipo di politica, che deve esserci rispetto, a una politica che invece lui, insomma, vede un po' pericolosa, diciamo, per l'essere umano, ecco, diciamo così. Rimaniamo appunto, nel tema, diciamo, ecclesiastico, passatemi il termine, perché, parliamo invece del carcere minorile Beccaria, dove domenica, c'è stata la prima messa, aperta a tutta la città, al minorile Beccaria, leggiamo da Repubblica Milano, messa aperta ogni domenica, Don Gino Rigoldi, dice, il carcere minorile, sarebbe però da chiudere, l'allarmismo cresce, non aiuta a dare un senso, il cappellano, Don Burgio, dice, le celebrazioni per tutti, un aiuto ai ragazzi, e al quartiere, da ieri la messa della domenica, nel carcere minorile Beccaria, è aperta alla città, in uno dei momenti più difficili per l'istituto, tra inchieste, tensioni e proteste, stiamo appunto leggendo l'articolo di Repubblica. Uno degli obiettivi di questa iniziativa, dice Don Claudio Burgio, è quello di pregare per il Beccaria, in un momento delicato, e sensibilizzare tutta la cittadinanza, il problema dei ragazzi e di tutti, non sono semplicemente figli degli altri, c'è una grande operosità, da parte del nuovo direttore, del nuovo comandante, i problemi ci sono, ma li stiamo superando insieme. L'istituto minorile ospita appunto un'untantina di detenuti, a fine aprile un'inchiesta da procura ha portato all'arresto di 13 poliziotti della penitenziaria e alla sospensione di altri otto, per accuse che vanno dalla tortura, alle lesioni nei confronti dei giovani reclusi. L'indagine appunto va avanti per accertare altri abusi o responsabilità, ma nel frattempo nel cacere sono scoppiate anche due proteste, l'ultima pochi giorni fa, e la tensione davvero davvero sempre molto molto alta. sull'articolo appunto Don Burgio poi racconta un po' cosa pensa e come potrebbe essere la situazione migliorata all'interno, come potrebbe migliorare la situazione all'interno del carcere minorile. una volta ho visto ad esempio un giovane detenuto guardare fuori dalla finestra e gli chiesi cosa vedi e lui in maniera disincantata mi ha risposto cosa vuole che veda Don? Le sbarre? Questo gli rispose, che ci sta? Però Giudice invece dice bisognerebbe far capire che fuori invece c'è un mondo e in quell'istante fuori c'è un tramonto bellissimo, ma pensate quello che appunto i ragazzi che sono all'interno del beccaria non riescono più a vedere e che poi diciamo una speranza un futuro fuori e ricordiamo che tutto questo stiamo parlando di ragazzi minorenni che hanno davanti a sé una vita ancora e una possibilità di ricostruirsi un futuro e di costruire il futuro che magari possa essere migliore di quello che è stato invece quel presente che li ha portati a vivere un periodo della loro vita appunto all'interno di questa struttura. Il cappellano poi sottolinea l'importanza della comunità qui ci sono occasioni di vera crescita non è solo la coercizione che aiuta i ragazzi ma è soprattutto la fiducia poi alla fine Don Gino Rigoldi invece dice ma sapete cosa vi dico? Che il cacere minorile sarebbe da chiudere ci sarebbe da fare ben altre cose quello è il concetto cioè nel senso che forse bisognerebbe cominciare a pensare come dice Don Burgio che non esistono cattivi ragazzi questo dice Don Burgio nei suoi libri dategli un'occhiata Lo stato sociale una vita in vacanza quella che secondo me non ce lo dirà mai perché lui è uno che lavora che dice che no bisogna fare andare l'economia bisogna farci andare la città ma è quello che secondo me vorrebbe tantissimo il nostro sindaco Giuseppe Sala perché davvero in queste settimane povero sindaco lo stiamo tirando ma neanche per la giacchetta più per tutto abbiamo tirato giacca pantaloni camicia senza vestiti lo stiamo martoriando perché ci sono tanti dossier aperti sulla città di quello dei palazzi delle costruzioni delle edilizie ne parliamo dopo prima visto che abbiamo parlato prima ancora prima dei concerti adesso parliamo di San Siro perché Sala è tornato a parlare anche di quello e dice leggiamo da Corriere della Sera Milano dice Milan e Inter via da San Siro Sala dice ma due nuovi stadi a poca distanza non possono coesistere converrà rifare il meazza sindaco però noi cinque anni fa le abbiamo detto non io Fabio Ranfic nel senso ma ce n'erano i cittadini che hanno detto però scusate ma lo stadio non è così una schifezzuola basta risistemare un attimino qualche milione di euro nel senso sicuramente ma meno che costruirlo magari i club gli diciamo che possono comprarselo mettergli il loro posto facciamo un 50-50 sul metterlo a posto gli diamo la possibilità di costruire dentro magari delle hospitality dei VIP come si chiamano i parchi VIP posti premium questa roba qui poi è questo che vogliono le squadre va bene facciamogli costruire magari qualche cosina fuori un paio di casette dove mettersi dentro anche le sedi delle squadre però potrebbero ricompensarci niente per qualche anno adesso finalmente però meno male meglio tardi che mai il sindaco boccia i progetti dei club dei club con il Milan a San Donato e l'Inter a Rozzano anche perché dice vanno a insistere su un'area agricola e qui attenzione non è solo una presa di posizione green ambientalista così ma anche economica cioè lì quelle lì non sono quando noi diciamo vanno a togliere spazio all'agricoltura tutti noi pensiamo ecco che tolgono il verde ma non è tanto il verde è un'economia cioè lì sono delle aziende che stanno lavorando è come se qualcuno pensa di fare uno nuovo stadio e dice dove lavora lei lavoro qui alla Fintos Technics ecco guardi la Fintos Technics la dobbiamo moradere al suolo perché dobbiamo fare lo stadio e tu dici bene ma io la Fintos Technics va bene grazie mille anzi datemi i quattro soldi che vi do al palazzo la sposto da San Donato a Cesano Boscone ah ok si beh può farlo un'azienda io non posso spostare i campi cioè non posso prendere un campo agricolo e dire guardi lì ci faccio quella lì è colza quella patate e di là faccio la lattuga e guardi no dobbiamo fare lo stadio e a me dove me li metto i campi e non so guardi li porti su in tangenziale soppalchi e metta lì cioè capito è un po' diverso e quindi sono contento che il sindaco Sala insomma faccia anche questa precisazione dicendo va a insistere su un'area agricola quindi togliamo anche economia quindi non solo un discorso diciamo green ambientalista entro fine mese dice Sala ci sarà lo studio di fattibilità per la riqualificazione appunto del del meazza due stadi così vicini non possono coesistere questo è quello che appunto ribadisce il sindaco Sala che cerca di portare acqua appunto al suo mulino cercando di bocciare cioè bocciando quindi senza appello la possibilità che Minera e Inter costituiscono costruiscano appunto i loro nuovi stadi chi è San Donato e chi è Rozzano e dice qui bisogna ristrutturare San Siro e speriamo appunto che questa sia la volta buona che finalmente qualcosa si faccia hai lunga vita allo stadio di San Siro e speriamo appunto che tutti i cittadini poi siano contenti e sappiamo che a San Donato non sono felici quindi va benissimo così sono gli occhi di Beth Davis cantati da Kim Karnes il Crystal History delle 8 Beth Davis Eyes alle 8.07 rientriamo qui per la seconda ora di Good Morning Milano qui in diretta su Crystal Radio Milano si sente 331-78-535-555 il numero di Whatsapp a cui potete scriverci siamo qua sempre per raccontarvi un po' quello che viene in città e per questa mattina tirare un po' la giacchetta al sindaco continuiamo a leggere notizie per cui il sindaco viene tirato in ballo ma in questo caso invece viene tirato in ballo tutto il comune di Milano non solo il sindaco perché Repubblica Milano ha pubblicato un articolo ieri con la mappa dei cantieri sotto indagine a Milano dal palazzo nel cortile alle torri di Crescenzago tutti i guai dell'urbanistica da una parte i magistrati che accusano costruttori e comune di non aver rispettato le leggi dall'altro i costruttori che parlano di interpretazione dei codici in mezzo molto probabilmente starà la verità in principio fu un cortile così apre Repubblica Milano poi arrivarono torri e grattacieli boschi di cemento e strane demolizioni e spuntarono parole difficili tipo scia piani attuativi e monetizzazioni oggi parecchie ruspe dopo c'è una Milano una mappa di Milano alla quale i turisti sono poco interessati ma che in realtà disegna un'altra geografia della città quella dei cantieri sotto indagine nell'ambito appunto della maxi inchiesta sul mondo dell'urbanistica il nodo è semplice per i magistrati un pool di PM che coordina il lavoro della guardia di finanza più due giudici che finora hanno condiviso l'impianto accusatorio molti palazzoni sono sorti o sorgeranno in violazione di un ventaglio di leggi quindi senza rispettare le regole per i costruttori dirigenti e funzionari comunali i destinatari di una pioggia di avvisi di garanzia le norme invece sono state seguite il problema è solo di interpretazione di codici e codicilli e questa battaglia starebbe provocando una paralisi così ci dicono alcuni esponenti della maggioranza edilizia appunto una paralisi edilizia e una voragine nei conti pubblici di una città che ripeto io trovo assurdo che sia basata l'economia di una città come Milano sui sulle nuove costruzioni sulle ristrutturazioni o comunque sull'edilizia cioè nel senso benissimo ma io posso pensare che potrò dare dei servizi o no a mi viene in mente non so ai neonati i servizi che il comune dà ai neonati sono subordinati al fatto se arrivano no i soldi dal mondo dell'edilizia ma stiamo scherzando cioè il problema è a monte cioè il problema e nessuno non ho sentito nessuno di nessuna parte politica dire questa cosa lo so benissimo lo so benissimo vi fermo già perché so già cosa dire te Fabio tu vivi sempre nel tuo mondo dove tutto è ideale dove tutto funziona perfettamente dove sì non dobbiamo costruire tenere tutti gli alberelli verdi non è sì ma non è quello il problema il problema è che si può fare politica dando per scontato che una città fondi il suo benessere o non benessere sugli oneri di urbanizzazione che i privati danno al comune nel momento in cui vogliono fare una costruzione oneri di urbanizzazione che più li alziamo più il comune fa soldi benissimo ma più li alziamo più i costruttori poi dovranno vendere ad alti prezzi più noi pagheremo di affitto le case anzi non andremo più neanche in affitto perché ormai sappiamo che a Milano non si può andare in affitto dovremmo farci i mutui per comprarci le case questo è un modo di concepire una politica per tutti quanti oppure forse vogliamo una Milano solo ed esclusivamente di alcuni e allora a quel punto io alzo le mani e dico va bene allora state facendo perfettamente il vostro lavoro dico di base dietro c'è questa inchiesta un'inchiesta molto complicata molto difficile che veramente vede entrambe le parti sembra che abbiano ragione al momento quindi bisogna capire davvero e dipanare questa matassa molto molto difficile da comprendere e insomma ci vorrà tempo speriamo di arrivare a qualcosa e questa è Beyoncé con Texas Old la grande regina Beyoncé che insomma non ti metti dietro l'una dietro l'altra che è successo ha fatto questa canzone che è successo sta facendo pazzesco è sempre Beyoncé è lunedì oggi giusto? sì 3 giugno inizia anche un mese quindi tra parentesi è lunedì e lunedì cioè ogni volta che c'è un lunedì con cui si apre un mese insomma è un super lunedì diciamo e un super lunedì non può che avere un super buon lavoro un super buongiorno un super top anzi in questo caso top voice di LinkedIn come Filippo Poletti che ci racconta un po' tutto il mondo del lavoro lo fa tutti i giorni lui sul suo profilo Instagram cioè sull'altra LinkedIn ma lo fa anche tutti i lunedì qui in diretta con noi e allora ascoltiamo dalla voce di Filippo Poletti il buon lavoro di oggi lunedì 3 giugno buon lavoro a tutti la prima parola della settimana è meno ore meno ore di lavoro stesso stipendio 37 ore alla settimana dove accade a Unicredit a partire dal primo luglio del 2024 dunque alle lavoratrici e ai lavoratori sarà concessa un'ulteriore riduzione dell'orario di lavoro che sarà ridistribuito settimanalmente su base di 37 ore è la rivoluzione del settore bancario ricordiamo ad esempio l'esperimento di Intesa San Paolo che ha introdotto il 4x9 che cos'è il 4x9 4 giorni di lavoro a 9 ore al giorno ovviamente su base volontaria seguiamo questi esperimenti la seconda parola chiave della settimana è test universitari e se fosse l'azienda la nostra azienda a pagare i corsi di preparazione per i test universitari dei nostri figli ebbene corsi gratuiti dove al centro congressi di Belluno per gli studenti del quarto anno oppure che stanno per conseguire la maturità ascoltiamo le parole di Luxottica l'azienda che propone questa misura la possibilità di formare professionisti qualificati contribuirà a che cosa al progresso dell'intero settore dell'I-U-R bene bene benissimo la terza e ultima parola chiave della settimana è gentilezza bene rileggiamo le parole di Guido Stratta presidente dell'Accademia della Gentilezza la gentilezza dice Stratta non è educazione e non è buone maniere ma è fare spontaneamente un gesto grazie al quale l'altro riceve un beneficio ovviamente senza tornaconto da parte di chi è gentile dunque dunque ricordiamolo le relazioni sono la base il fondamento della nostra società e affinché è molto semplice la nostra società possa migliorare dobbiamo migliorare le relazioni bravo bravo Guido e allora buon lavoro a tutti ricordatevi di scrivermi 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 dove su LinkedIn o LinkedIn raccontatemi le vostre esperienze di lavoro ancora una volta buon lavoro a tutti Cardigans Erase 1999 Crystal Radio buon giorno ancora a tutti ben ritrovati qui a Good Morning Milano 3317853555 il nostro numero di Whatsapp ringrazio ancora chi ci sta scrivendo questa mattina condividendo anche la situazione che c'è fuori da questi studi così che voi siete i nostri occhi anzi chiedo a Tasnim che è appena arrivata Tasnim sta piovendo fuori vogliamo capire fammi segno se sta piovendo o no così 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 piovigina ancora quindi a San Siro la redazione si sta vive la nostra redazione vive pian pianino arrivano tutti i nostri collaboratori appunto Tasnim che è appena arrivata ci dice che invece in questo momento piovigina quindi insomma non sta ancora piovendo speriamo appunto che rimanga così anzi magari così se smettesse ci farebbe anche un piacere che dire sarebbe anche meglio dopo il successo invece dello scorso weekend del concertozzo vi ricordate che abbiamo parlato del concertozzo fatto a Monza degli Iolo Storetese in collaborazione con Pizza Out e altre realtà che hanno a che fare col mondo dell'autismo beh Nico Acampora appunto fondatore Deus Ex Machina si usa in questo caso comunque ideatore fondatore di Pizza Out è andato da Mattarella e si ricordate Mattarella era venuto qua quando era stato aperto il negozio di Monza la pizzeria di Monza il Pizza Out di Monza e invece adesso Acampora è andato a cena a casa di Mattarella non proprio a casa sua siamo sia al Quirinale ma in una cena di gala in cui non era l'unico ed è molto interessante su Repubblica Leggere un po' quello che dice nel senso che si racconta che insomma ovviamente Lusingato è super contento di questo invito ha fatto un incontro anche con famiglie di alcuni giovani disabili romani in una parrocchia lì vicino e poi appunto ha fatto questa cena al Quirinale insieme appunto a sua moglie lui e sua moglie sono andati appunto al Quirinale alla presenza di Mattarella e tanti altri e ovviamente incanzato dai giornalisti Nico Acampo ha detto i giardini del Quirinale sono stupendi ma non sono nel mio ambiente io sono abituato a trascorrere il tempo da Pizza Out questo ha detto Nico Acampo che si è definito un pesce fuor d'acqua dicendo insomma sono un po' come Cenerentola aveva detto poco prima di entrare al ballo diciamo poco prima di entrare nella cena appunto di del Quirinale aveva detto ai suoi follower sui social dice mi sento un po' come Cenerentola al gran ballo questo ha detto appunto Nico Acampo che comunque ha contato che ha visto appunto il Presidente è sempre emozionante stringere la mano al Presidente gli ho stretto appunto la mano mentre lui mi chiedeva con grande semplicità come stanno i ragazzi di Pizza Out insomma quindi c'è un po' di affetto sicuramente da parte del Presidente Mattarella per la realtà di Pizza Out e dice appunto Acampo sono evidentemente un pesce fuor d'acqua qui però ho detto è stato molto interessante ho parlato anche ho trascorso molto tempo a parlare con la sottosegretaria all'istruzione Paola Frassinetti e ci siamo confrontati sul bisogno di insegnanti di sostegno qualificati e di ruolo così appunto dice Nico Acampo è stato molto interessante anche il confronto con Lucia Albano sottosegretaria all'economia ci siamo confrontati sul tema del lavoro per le persone disabili e sulle questioni legate alle imprese sociali sono sicuro che ci rivedremo presto perché è stato un incontro piacevole e prolungato e quindi bravo complimenti a Nico Acampo che appunto con una semplice pizza è arrivato dove davvero molti altri non avrebbero mai pensato che si potesse arrivare e è arrivato a far sentire la voce di tanti che voce troppo spesso non hanno e servirebbe a no una prescrizione di sole perché qui davvero non se ne vede la fine di questo tunnel fatto di pioggia nuvole acquazzoni e chi più ne ha più ne metta di acqua perché quella che come si dice ne è passata di acqua sotto i ponti sì troppa diciamoci la verità qui troppa acqua non ne possiamo più anche perché bisogna capire se poi tutta quest'acqua farà bene all'agricoltura e tutto perché tu dici qual è poi come sempre che arriviamo fa un mese senza acqua nei campi con i campi che dicono eh ma i campi sono secchi perché l'acqua ha fatto i danni è andata giù è andata giù in falda ma inoltre la falda si è portata via tutto quello che c'era sui campi e quindi capito no dicevo e quindi non è detto che ormai non sempre diciamo quando arriva la pioggia sono cose buone per diciamo il nostro benessere comunque invece per il nostro benessere spiritual culturale è buonissimo invece dopo di noi ascoltare Ambrogio Curti fa proprio bene ve lo prescrive il medico una volta al D dalle 9.05 più o meno alle 10 potete prendere la miglior pillola che ci sia musicale in questo momento in giro in tutte le radio italiane cioè Ambrogio Curti con la senti questa lui vi dà la pillolina bella della canzone poi ve la spiega anche ve la racconta e vi fa anche la nanna quindi meglio di così cosa volete e vi culla per l'inizio della mattinata così che insomma possiate iniziare la mattinata al meglio lo fa sempre dopo di noi perché vi dico questo perché a lunedì fa un'incursione nella nostra trasmissione abbiamo aperto uno spioncino boom entrato dentro perché lui appena trova un pertugio si infila e quindi si è infilato nella nostra trasmissione e siamo ben contenti di dargli spazio per il sommario della settimana di senti questa cosa sentiremo questa settimana in senti questa Ambrogio dicelo tu che cosa ci farai sentire e di chi ci racconterai gli aneddoti e quale musica ascolteremo con te Ambrogio ma 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 io quelle voci li continuo a dire che li conosco e comunque a me sembra un po' non lo so Ambrogio mi sa che sei passato di qua qualche volta che non c'ero e non so ma comunque bravissimo Ambrogio Curti dopo di nuovo le 9.05 appunto dopo il giornale radio con senti questa le musica la musica internazionale nazionale i racconti gli aneddoti insomma tantissime cose non perdete lo avete detto che sommario pazzesco e poi ci hai salutato con un ben nato cioè veramente tutto lo studio cantava nonostante gli anni di differenza tra il sottoscritto e la redazione che potrebbero essere quasi figli miei quindi insomma è stato bello vedere insomma cantare tutti tutti insieme grazie ancora Ambrogio grazie anche a voi che ci state ascoltando e ci state scrivendo al 3317853555 continuiamo con la musica perché siamo qua anche per quello insomma Cristal Radio Milano si sente ma si sente anche la bella musica come quella di Phil Collins in the air in the air scusate e questo è la Phil Collins in the air tonight che ad un certo punto mentre canta questa canzone prende e se ne va questo che sembra più che una dissolvenza finale sembra più che Phil Collins si lascia il microfono acceso lì e prende dice ragazzi basta dai tanto fa tutto così alla fine prende e se ne va peccato che è un pezzo veramente cioè pazzesco storico che va a questo finale che insomma lascia un po' di amare in bocca e mi dice no Phil dove vai Phil torna qui dove vai torna qui e poi lui prende prende e se ne va e se ne va così nei miandri di un'altra radio magari così ecco perché adesso se voi non fatelo ma se voi scanalate magari è su un'altra radio che sta cantando lui passa da una radio all'altra così poi fa il giro e magari fra una settimana ritorna qui da noi vabbè noi siamo qua a aspettarti come tutti i nostri ascoltatori sono qui ad aspettarti sui 96.2 FM sul Dub Plus in tutta la Lombardia oppure sull'applicazione per iOS o Android come fare semplicissimo basta andare sul vostro store del vostro smartphone cercare Crystal Radio con la K e 2L e trovate la nostra applicazione con il nostro bello logino giallo che ricorda il Duomo di Milano o un equalizzatore chissà quale sarà la verità dietro questo questo logo e potete scaricarvi l'applicazione ascoltarci ovunque voi siate ovunque voi andiate poi vi ricordo sempre c'è anche il sito internet crystalradio.it in cui potete ascoltare la diretta in cui potete vedere anche un po' di informazioni sui vari programmi che animano il palinsesto quotidiano di Crystal Radio e che potete come dico sempre bel consiglio insomma saranno contenti quei dell'ufficio del personale delle varie aziende da cui ci ascoltate che vi consiglio sempre di aprire poi iconizzare tenere sotto far finta di essere in call con i vostri colleghi quando invece vi state ascoltando bellamente se Crystal Radio e magari senti questa con Ambrogio Curti dopo di noi poi c'è anche scusate questo momento un po' così coordinate ma siamo quasi in chiusura quindi voglio ricordarvi sempre bene come fare a non perdervi mai niente della nostra trasmissione c'è anche il nostro sito internet il nostro nei nostri social il nostro podcast goodmorning milano goodmorning.milano.it il sito internet potete rivedere e riascoltare e rivedere e riascoltare quindi occhi e orecchie a noi per tutti gli ospiti che vengono tutti i vari momenti delle nostre puntate e anche tutta la puntata completa che trovate anche su Spotify e che potete anche lì vedere o riascoltare perché sì su Spotify sono sbarcati ormai da qualche mese un bel po' di mesi oserei dire i video podcast e quindi potete anche tranquillamente guardarci e magari non tanto chi sono io ma lo sapete e poi non è che sia tutto grande spettacolo ma vedere magari chi sono i nostri ospiti che vengono qua a trovarci ogni giorno abbiamo tantissimi ospiti devo rivedere ad esempio i momenti del lunedì con Filippo Poletti riascoltare anche tutti i vari ospiti che ci vengono a raccontare cose o prendere appunti per i vari eventi che raccontiamo durante tutta la settimana o il giovedì il teatro di Tamara Valleo ad esempio potete prendere l'abitudine del teatro e guardarvelo sul nostro sito ci sono anche i social di Milano News e di Good Morning Milano c'è anche pensate pensate un po' quanto siamo ormai ridotti male c'è anche un TikTok su cui di solito trovate me che canto fuori onda cioè ormai quello è un po' il must ci sono cose interessanti e belle come gli interventi della nostra redazione fatta da Elisa oppure gli interventi di Viola dei TikTok mentre ballano le canzoni saremo la nostra redazione e poi ci sono io che a squarciagola canto canzoni che se non mettessimo il titolo sarebbe difficile capire che canzone è potremmo fare un gioco effettivamente Fabio che canta e vediamo se riuscite a indovinare le canzoni che canto fischietto in tono in maniera stonata qui al microfono soprattutto nei fuori onda che però la regia mi ruba sempre ormai lo so c'ho qui davanti a telecamera quindi so che quando mi parte la canzone c'è poco da fare quando mi parte il mood da star quando mi parte la Beyoncé che c'è in me non ce la faccio a stare fermo devo cantare e ballare 8.55 lunedì 3 giugno siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano giornata piena di informazioni e di notizie quella che vi abbiamo fatto iniziare oggi mi raccomando voi continuate a leggere i giornali proprio che è importante adesso non è una filipica sull'importanza della carta quello proprio non mi interessa minimamente però dategi sempre un occhio ai siti di informazioni alle notizie ma soprattutto non fermatevi alle prime in alto i titoli quelle delle notizie negative quelle di cronaca nera andate un po' a sfrucugliare dentro nei vari siti c'è tanta roba da leggere leggetela con l'occhio critico mi raccomando perché poi di stupidaggini ne vengono scritte tante però insomma un po' di occhio critico e si impara meglio a conoscere questa bellissima città che tanto amiamo e tanto odiamo sempre insieme ma che insomma tanto vogliamo rimanere qua c'è poco da fare non dovrei ripetervelo ma io ve lo ripeto comunque dopo di noi alle 9.05 c'è Ambrogio Curti con senti questa ok nell'ultima mezz'ora ve l'ho detto almeno 40 volte credo che l'abbiate capito dai così meno veramente fidatevi fidatevi di uno che tutte le mattine vi dà dei buoni consigli fidatevi ascoltate Ambrogio Curti alle 9.05 con senti questa dopo di noi e se anche domani volete iniziare la vostra giornata vi abbraccio aperte a Radio Super Aperta quello che è tutte le mattine Good Morning Milano dalle 7.09 qui su Crystal Radio buona giornata a tutti e a tutti a domani ciao ciao